Buonasera amici del tubo e benvenuti a un nuovo episodio della saga di Mad Max raccontata da me. Vi ricordate? Mesi fa lo facevo. Il film di cui ci occuperemo questa volta è Thunderdome del 1985, il controverso capitolo conclusivo della trilogia originale di George Miller, sperando che George Miller si metta al più presto al lavoro e realizzi altri splendidi spettacolari Mad Max come l'ultimo Fury Road. Non è stato facilissimo scrivere questo video perché non ho un rapporto idilliaco con Thunderdome, ma ho cercato di restare oggettivo durante tutta l'analisi del film per darvi la possibilità naturalmente di avere il vostro parere e direi di cominciare subito dato che la sceneggiatura che ho qui davanti è senz'altro più lunga della precedente, perciò ritorniamo al finale del precedente film Mad Max 2 Il Guerriero della Strada. Il finale di Mad Max 2 è poco aperto e la scelta fu intenzionale, dato che Miller lavorò al sequel con l'intenzione di porre fine alle avventure di Max in grande stile e costruirsi una carriera registica rispettabile dopo aver ucciso la sua prima creatura per potersene allontanare. Miller attese la storia giusta e una nuova occasione per far evolvere per la seconda volta Max e il suo mondo verso una direzione totalmente inedita. L'ispirazione fu esterna, una specie di rielaborazione del Signore delle Mosche di William Golding, con una tribù di ragazzini selvaggi alle prese con l'invasione da parte di un adulto più civilizzato. L'idea per un terzo Mad Max non si concretizzò finché Miller non pensò che Max sarebbe dovuto essere quell'adulto. L'ex poliziotto in viaggio verso una meta mai esistita avrebbe proseguito lungo il cammino dell'eroe, avrebbe raggiunto l'impresa in grado di definire lo scopo di tutta la sua ricerca interiore, la sua redenzione finale. Tuttavia, l'entusiasmo provato dal team creativo capitanato da George Miller all'epoca della preproduzione del secondo sequel di Mad Max venne quasi immediatamente stroncato da una tragedia umana. Byron Kennedy, amico fraterno di Miller e collaboratore fin dai primi cortometraggi che produssero insieme usciti dall'Università di New South Wales, morì durante un breve volo di piacere in elicottero insieme a un adolescente amico di famiglia. Byron, pilota esperto e meticoloso, era alla guida del mezzo. L'elicottero si schiantò in un lago e il giovane venne salvato nonostante un principio di assideramento. Per Byron non ci fu nulla da fare e morì nel corso della notte. Fu un duro colpo per George Miller, l'elemento della coppia più posato e meno intraprendente. Era stato soprattutto Kennedy nel 1978 a racimolare i 400.000 dollari australiani che vennero con enorme difficoltà investiti nella realizzazione di Interceptor. Senza la caparbietà di Byron, il suo ottimismo, il suo continuo insistere nella risoluzione di ogni problema di produzione, sfruttando anche metodi al limite della legalità tra strade chiuse al traffico senza permesso delle autorità e l'accordo stipulato sotto banco con gli attori, i quali si accollarono alle spese di viaggio di oltre 1000 km da Melbourne ai luoghi delle riprese percorrendo da soli la distanza a bordo proprio delle moto Kawasaki concesse dalla ditta. George Miller, a suo dire, non sarebbe mai stato in grado di completare una simile impresa. Era Byron il vero appassionato di motori, l'uomo che specificò l'aspetto finale dell'automobile di Max, che in questo film non c'è, dotandola del vistoso compressore sul cofano, naturalmente finto, mai collegato al vero motore. Fu lui che suggerì i close-up sulle leve del cambio e le altre parti dei veicoli durante le scene d'azione più concitate. Insomma, la scomparsa di Byron privò George Miller di ispirazione, creatività e forza di volontà. La preproduzione si bloccò all'istante, lo studio era entusiasta di un nuovo Mad Max, ma senza Miller dietro alla cinepresa non se ne sarebbe fatto nulla. Alla fine prevalse la linea d'azione. Facciamolo. Facciamolo in onore di Byron Kennedy, lui avrebbe voluto che lo completassimo. Miller sapeva che sarebbe stato il film più difficile della sua carriera fino a quel momento, ed è certo che la mancanza di Byron finì con alterare pesantemente il risultato finale della pellicola che divenne, nell'estate del 1985, Mad Max Beyond Thunderdome, oltre la sfera del tuono. Inutile la localizzazione italiana in quel modo, perché uno spettatore non anglofono, anche guardando il film, non credo che avrebbe potuto capire cosa fosse la sfera del tuono. Io ricordo questo particolare Mad Max fin da quando ero bambino e ricordo che arrivavo molto spesso alla fine del film chiedendomi, sì ma dov'era il limite oltre cui è andato Max della sfera del tuono. Miller sentì il bisogno di trovare un altro compagno di lavoro, una seconda mente ancora più invasiva, se così possiamo dire, di Byron. George non avrebbe diretto Thunderdome nella sua interezza, si sarebbe fatto sostituire da George Ogilvy, un collega australiano, regista teatrale di lungo corso, con il quale aveva collaborato per la fortunata miniserie televisiva del 1983, The Dismissal. Pare che Miller diresse soprattutto le scene d'azione di Thunderdome, lasciando una grande libertà a Ogilvy riguardo tutte le restanti parti di narrazione. Non so se sia stato questo il motivo alla base del forte cambiamento di stile, non sempre in meglio, di oltre la sfera del tuono, ma la terza incarnazione di Mad Max divise e divide tuttora gli appassionati. C'è chi crede che in virtù della produzione di alto livello, la cura per i dettagli e la trama originale, distaccata da Mad Max 2, Thunderdome sia il migliore episodio dell'intera saga. Escludendo Fury Road! Altri invece credono fermamente che con Thunderdome la serie avesse concluso il primo ciclo di Max in modo sottotono, non abbastanza coerente alla visione originale, facendo troppo sfoggio di trovate chicce e buoniste. Credo di appartenere a questa seconda categoria, ma più lontano dallo schieramento estremo. Thunderdome nella sua eccentricità trova piacevoli modi per assicurare una continuità coerente alla serie. Alcune idee sono felicissime e le adoro, aprono davvero molto l'ambientazione post-apocalittica a una nuova serie di scenari, ma lo stile... No, lo stile! In uno dei suoi editoriali, il grande nostalgia critic ha detto una cosa che secondo me è sacrosanta. 15-20 anni fa abbiamo assistito al peggio del peggio del cinema di intrattenimento americano. I film di intrattenimento usciti a cavallo del 1995 e il 2000 sono oggi visti come l'ultima feccia del cinema del ventunesimo secolo. L'apoteosi della scemenza, la palestra del giovane Michael Bay. Oggi il cinema, specialmente quello spettacolare, non quello d'autore ma anche quello non scherza, sta bene. Ci sono cazzate commerciali senza caponecoda, ma buona parte dei film che potrebbero essere realizzati con molto meno sforzo creativo si rivelano più svegli e sorprendenti di quanto ci si possa aspettare. Il nostro palato si è fatto più fine, la narratologia ci è entrata in testa in una maniera o nell'altra e siamo propensi a investire due ore del nostro tempo libero per opere significative. Certo poi c'è sempre chi va a vedere i film dei Vanzina e i dinosauri robot di Michael Bay, ma quella è gente che ci porteremo dietro fin quando il sole non esaurirà la sua scorta di idrogeno, perciò pace. Il peggio è passato in attesa di peggio, ancora peggiore. Tuttavia se i film della seconda metà degli anni 90 risultano riconoscibili subito grazie alla loro vergognosa dose di stupidera, i film della metà degli anni 80 puzzano. Puzzano! Questo è il termine che uso. Hanno uno stile così riconoscibile da farvi alzare le sopracciglia ogni volta che iniziate un film e vedete dipanarsi i titoli di testa con una canzone trozosissima urlata con quella batteria piatta rumorosissima da talk talk. Gli elementi Kitch o Kemp sono tipici della seconda metà degli anni 80, quando secondo loro per rendere un film figo bastava renderlo il più metrosexual o il più new wave possibile. Uno dei primi film degli anni 80 impregnati di questo lezzo plasticoso? Flashdance. Ma ormai Mad Max aveva fatto tendenza, perché non renderlo tendenzioso? La fama del guerriero della strada aveva raggiunto il Giappone. Nel 1983 era uscito il primo volume di Okuto no Ken di Buronson e Tetsuo Ara, celebre opera post-apocalittica che riprese un sacco di concetti di Mad Max 2. Ken è una copia di Mel Gibson con l'aggiunta di muscoli e sacri colpi dei cento pugni devastanti, ma non è l'unica similarità contenuta nel manga escludendo l'ovvia ambientazione. Yagi è un validissimo Lordo Mungus. Osservate le gang, i veicoli, i più piccoli dettagli. Eh vabbè. Ken il guerriero è forse l'esempio più plateale, ma anche senza il bisogno di un nuovo film, il meme di Max aveva già trovato spazio nella nuova generazione. Questo è un video musicale di Phil Collins del 1985, puro plagio creativo sebbene solo per una sequenza. Troppo tardi, le citazioni si sprecavano già prima della stagione di Revival aperta con Fury Road. Thunderdome uscì nel bel mezzo della decade di Ronald Reagan con un fare molto più piaccione, di facile comprensione, parte integrante di un processo di omologazione vigente in quel determinato periodo. Andiamo a vedere, come al solito, scena per scena o quasi. Già solo i titoli di testa di Thunderdome possono ad alcuni far rimpiangere la gravità delle prime scene di Mad Max 2. La truce colonna sonoro-orchestrale di Brian May, compositore australiano che non ha assolutamente nulla a che vedere con chitarristi inglesi capelloni laureati in astronomia, viene rimpiazzata da un pezzo pop cantato da Tina Turner, la quale recita una delle parti protagoniste in questo film, One of the Living, coadiuvata nel finale da We Don't Need Another Hero, che divenne una delle canzoni più celebri della fase della rinascita della cantante. I titoli sono solenni e anche piuttosto aggraziati, con un lento zoom continuo verso lo spettatore, ma la musica ritmata e amiccante di Tina stempera la tensione. Vi sottopongo un video che propone la medesima introduzione con in sottofondo la musica preparata dal nuovo compositore di Thunderdome, il francese Maurice Jarret, vincitore di tre premi Oscar per le colonne sonore di Lawrence d'Arabia, il Dottor Zivago e Passaggio in India, che raccolse la statuetta proprio subito dopo aver ultimato il lavoro su questo Mad Max. Non è male! Il coro dei bambini nei primi secondi funge da foreshadowing della seconda metà del film. Segue un momento ambientale drammatico che apre la strada a un crescendo tetro e incattivito, perfetto per ciò che si dovrebbe aspettare. Avrei rinnegato Tina Turner per una buona apertura, degna figlia di Blade Runner? No, per due motivi. Thunderdome non è Mad Max 2 e non è Interceptor, ed è bene che lo si capisca subito per una questione di onestà intellettuale. Non avrebbe avuto senso aprire la trama con movimenti cupi quando il resto del film non avrebbe reintrodotto simili elementi. L'opening rappresenta il tono generale del film. Secondo motivo? Sono dei gran bei pezzi. Forse One of the Living è un tantinello scansonato, ma un testo perfetto che sollecita l'avvento di una nuova razza selvaggia, invitando il personaggio di Max, ancora da reintrodurre, a combattere come unica soluzione per sopravvivere a un nuovo giorno, nonostante la vita sia più dolorosa in queste condizioni della morte. Il secondo pezzo che udiremo durante i titoli di coda è invece ineccepibile. Pur trasudando anni Ottanta da ogni parte è una semplice attraente ballata malinconica in equilibrio tra perdizione e rinnovato senso di speranza, in cui la voce della Turner domina in contrastata. Chi ha detto che non si può ballare un po' nella post-apocalisse? Thunderdome ci presenta un mondo distrutto molto diverso da quello che avevamo lasciato nel Guerriero della Strada. Fin dalle prime riunioni creative del 1982, Miller volle spostare talmente avanti il calendario dell'apocalisse, da scardinare ogni certezza e riproporre il cambiamento repentino che accolse il pubblico all'uscita del primo sequel di Interceptor. E' opinione comune affermare che questo Mad Max si è ambientato una quindicina di anni dopo gli eventi di Mad Max 2, ma in questa tetralogia, è importante, non esistono dati oggettivi. A che cosa serve? È davvero così importante? L'intera storia è stata spazzata via. I 15 anni derivano da un'intervista di Miller in cui il regista spiegò che quella era la sua idea personale per giustificare la svolta che ci accoglie non appena scatta la prima inquadratura del film. Le terre desolate e aride pianure dell'outback australiano sono state rimpiazzate dal vero e proprio deserto, una visione africana o medio orientale nonostante il panorama appartenga ancora al continente oceanico. State osservando i pressi della cittadina di Coober Pedy, capitale mondiale dell'Opale. In questa medesima pianura gireranno parti di un altro film di culto australiano, Priscilla la regina del deserto, nonché pitch black e quello schifo del pianeta rosso. Per noi che veniamo dai due primi Mad Max, questo è il primo deserto post-apocalittico che vediamo. Non ci sono più le strade. Sono finalmente scomparse. Forse è il deserto che con l'andare degli anni ha soppiantato l'intero pianeta. Forse è soltanto la stessa interminabile distesa nella quale ritroveremo Max 35 anni dopo ad aiutare una delle vuvalini, le molte madri, a scortare cinque innocenti via dalla cittadella di Mortan Joe. Un uomo trasporta un branco di dromedari lungo una pista del deserto, ma viene atterrato dal passaggio di un aereo a bassa quota guidato da Bruce Pence e suo figlio. Sentirsi confusi non è reato. Non solo è il medesimo attore che interpretò il ruolo del pilota di girocottero nel guerriero della strada, sembra anche rappresentare il medesimo personaggio, anzi pare pure avanzato di grado dato che è passato da un girocottero a un aereo vero e proprio, ma non può essere lui. Qualche leggera differenza c'è e Mad Max 2 nel finale sentenzia a chiare lettere che il pilota diventò il leader del popolo del villaggio raffineria, conducendoli fino al mare distante qualcosa come 2000 miglia. Che abbia avuto un qualche incidente dopo questo evento? Il figlio potrebbe benissimo essere stato generato con la ragazza bionda del film precedente, attribuendo alla continuità di Mad Max un appiglio sistematico, o forse... Anzi, lui e Max non si conoscono. Essendo gente poco abituata a vedere altri simili nella post-apocalisse, è improbabile, altamente improbabile, che i due non siano in grado di riconoscere l'uno al volto dell'altro, indipendentemente da quanto sia passato dagli eventi di Mad Max 2. È assai probabile che George Miller volesse lavorare di nuovo con un attore che gli era piaciuto, avendo oltretutto in sceneggiatura un personaggio talmente simile al precedente da sembrarne quasi un fratello minore. Perché non ripetere l'esperienza? Ed è un'ennesima trovata per mischiare le carte stimolando i fan a formulare teorie, riflettendo sulla nebulosità ricercata dello storytelling milleriano. Il nuovo pilota si chiama Gededia, il precedente era senza nome. La teoria è che sia lo stesso personaggio, regge. Il nuovo pilota ha un figlio, siamo nel futuro rispetto a Mad Max 2. Il figlio è biondo come il suo vecchio interesse sentimentale, la teoria regge. Gededia è biondo come il figlio, anche il pilota di girocottero lo era, regge. Chi d'anziano in Mad Max 2 ci racconta che diventò il leader della tribù non può mentire al pubblico. Ci è tornato in un secondo momento? Ed è davvero possibile che il film azzeri il rapporto fra lui e Max come se nulla fosse accaduto anni prima? La teoria vacilla pericolosamente, ma non può aver usato lo stesso attore con il medesimo aspetto e recitazione per due parti diverse in due film consecutivi. Perché? Sergio Leone può? George Miller no? Tra parentesi poi... Dromedari in Australia? Sì sì. Speravo di poter fare ha ha in faccia a George Miller, salvo scoprire che l'Australia è l'unico posto al mondo in cui i dromedari, importati lì come forza lavoro nel corso del XIX secolo, si sono re-inselvati Kitty e vivono allo stato brado nella parte centrale del continente. Non si finisce mai di imparare. Spence si getta dall'aereo in volo sul convoglio di dromedari e lascia il povero mercante beduino australiano appiedato nel deserto. Ops, il povero mercante beduino australiano è Max Rokatansky. A quanto pare vuole imitare lo stile selvaggio di Kid indossando la medesima parrucca. Le rughe! Le rughe iniziano a comparire! Ora lo riconosco. Mel Gibson aveva incominciato a farsi notare a Hollywood in quegli anni, trascinato dal successo dei due Mad Max. Aveva recitato Neil Bounty al fianco di Anthony Hopkins e Laurence Olivier, era stato protagonista nel Fiume dell'Ira e in Fuga d'Inverno con Diane Keaton. La sua stella era in ascese e sarebbe stata definitivamente consacrata due anni dopo con il primo fortunato episodio di Arma Letale. Max appare in Selvaticito sotto anni di sole cocente, gli indumenti presentano pochi elementi dell'antica divisa da poliziotto ed è privo della V8 Interceptor andata distrutta coerentemente nel film di quattro anni prima. Una scimmietta rompiballe... Ah, gli anni Ottanta. Apprezzo però il nuovo stile orientaleggiante della post-apocalisse, peccato che nella seconda metà vada a perdersi. Max, dopo aver trovato un fischietto a terra, raggiunge a piedi il villaggio di Barter Town, una specie di grossa agora, comandata dagli uomini al servizio di Auntie Entity, una figura che abita in una torre a pochi metri di altezza dal volgo. L'involuzione culturale dell'uomo in questo film è ancora più marcata, segno che l'avanzare inesorabile del tempo continua a cancellare il progresso perduto. I costumi in pelle ormai fuori moda vengono sostituiti da blandi rimasugli e più consone vesti in pelle sformate e monocolore, una cozzaglia di stili sempre sopra le righe ma esilarante da guardare. Il melting pot sostituisce il tema estetico fetish, medieval, pansessuale della gang di Lord Mungus di Mad Max 2. Eppure è germogliata una città come Barter Town, la quale non è un villaggio di sopravvissuti trinceratosi per difendersi dai predoni, bensì un'autentica nuova forma di società che sembra essere stata creata da dei predoni. Vi ricordate quando nei vecchi video di Mad Max vi parlavo dell'evoluzione organica delle idee da un'opera all'altra? Questo è un esempio del medesimo concetto. Miller pensò. I razziatori non possono vivere per sempre di nomadismo in una terra arida, prima o poi dovranno fermarsi e cercare di radunare gente per autogestirsi. In Interceptor il mondo è prossimo alla fine, in Mad Max 2 è caduto da poco tempo, in Thunderdome assistiamo alla rinascita dell'aggregazione, la culla della nuova selvaggia civiltà 2.0, le nuove città. L'ingresso a Barter Town è accompagnato da una colonna sonora industriale, rintocchi metallici che identificano la laboriosità di un luogo che professa di star costruendo un nuovo domani. Il budget presso a poco triplicato rispetto al primo sequel comincia a farsi notare grazie al numero delle comparse e la varietà di costumi e oggetti sulla scena. Notate i dettagli durante la scena con il venditore di acqua radioattiva, credo lo si stia poco ad ascoltare a una prima visione e non ci si perde niente, sono battutacce, mentre si è intenti a mangiare con gli occhi le piccole e deliziose trovate scenografiche. Ed ecco le mitiche amazzoni post-apocalittiche, le abbiamo viste ovunque, almeno qui per via della misi indossata da Untie Entity possiamo dedurre che possano essere state adepte della sua tribù. Nota per l'edizione italiana, Massimo Giuliani che doppia Mel Gibson? Mmm, sono dubbioso. Confrontate le due versioni. Ora siamo all'interno, è tutto. Secondo! Ho le skills, posso provare lì. Devo entrare per un'ora. Il prossimo. Ci so fare, posso essere utile. Nei primi due film la voce italiana di Max era fornita da Carlo Marini. Le poche battute del personaggio erano rese piuttosto bene e contribuivano a infondergli il giusto carattere. Qui invece Max appare molto più invecchiato e quando apre bocca ha invece un tono ben più giovanile e meno carismatico. Tanto per farvi avere un'idea Giuliani fu l'autore del particolarissimo e per quanto mi riguarda felice doppiaggio di John Belushi nei Blues Brothers, nonché in gioventù di... Per quanto mi sforzi non riesco proprio a sublimarlo a Mel Gibson. Le porte di Barter Town sono innanzitutto un grosso centro di scambi. Max accetta di venire ingaggiato per un lavoro in cambio dei dromedari rubati. All'ingresso consegna tutte le armi in suo possesso, un mezzo arsenale. Sì, Fury Road. Evento più unico che raro, la mitica doppietta riesce a esplodere un colpo. Altro dettaglio succoso, una delle pistole che Max consegna potrebbe essere la medesima Mauser manico di scopa posseduta da Bubba Zanetti in Interceptor. L'eroe viene escoltato attraverso Barter Town sotto l'incessante colonna sonora di martelli da fabbro. E sì, un pochettino di fetish c'è lo stesso, a Lordo Mungo spiace questo elemento. Ed ecco Haunti, interpretata da Tina Turner con i suoi orecchini a forma di sanguisughe obese e la capigliatura da Volevo testare con la mia forchetta da elettricista se in Australia la corrente ha lo stesso voltaggio degli Stati Uniti. Anni 80. All'inizio della scena c'è un'altra citazione ancora più subdola, ma più utile ai sensi della trama, diretta al primo Mad Max, con un suonatore di sassofono che dovrebbe richiamare alla nostra mente la perduta moglie Jessie. La sua introduzione ricalca appieno la scena di Interceptor, quindi non può avvenire per caso, musica in sottofondo crescente, l'inquadratura che si sposta rendendola homo diegetica al racconto. La triste memoria traumatica del pazzo Rocatansky viene stimolata, segno che Barter Town è l'inizio di una nuova importante avventura. Max viene testato e assunto da Hauntie per uccidere uno di famiglia senza destare sospetti, passando attraverso la nuova legge istituita in città da Tina Turner, la quale è sorprendentemente convincente nel ruolo di Will Lane, per quanto il suo personaggio non rientri appieno nella categoria. Non aveva mai recitato fino a quel momento in un ruolo da protagonista e ne esce a testa alta non solo grazie alla sua presenza scenica, ma alla sua particolarità, necessaria per sopravvivere schiacciata fra la pazzia anarchica di Toe Cutter, il macismo da condottiero delirante di Omungus e il culto della personalità del decadente Immortan Joe. Entity è un leader determinato e dalla mente affilata che amministra con efficacia una comunità attraverso l'imposizione di regole a cui egli stesso si piega per dare il buon esempio. Non è obbligatorio che le regole siano giuste, Max lo intuisce subito, sono soltanto elementi necessari per garantire il controllo e ora la donna ha bisogno di accentrarlo. La città di Barter Town ottiene energia elettrica raffinando l'etame suino per creare metano, una buona soluzione post-apocalittica a patto di avere la pazienza di allevare qualche generazione di maialini. Come diceva il secondo custode della storia, il grande Lord Benzoni, nel suo testo sacro L'Inferno dei Vivi, anche la merda avrebbe valore se l'uomo nascesse senza culo. Il capo di questa scato fornace... Scusate, sto cercando di creare una neolingua post-apocalittica. ...e il nano, Master, interpretato dal leggendario Angelo Rossitto, attore italo-americano fin dai tempi del muto. Fu membro del cast della leggendaria pellicola di culto Freaks, uscita nel 1932 e immediatamente censurata da Mezzomondo. Lavorò in molti film a basso budget della Hollywood povera anni 50 e interpretò ogni genere di piccola creatura dietro costumi e trucchi prostetici di vario tipo. La sua performance in Thunderdome fu una delle ultime, Rossitto aveva più di 75 anni durante le riprese, il che è piuttosto incredibile data l'agilità che dimostra, è una delle più estese della sua carriera, un vero e proprio canto del cigno. Master è aiutato dallo statuario Omone Blaster, i due convivono in un rapporto quasi simbiotico. Haunti chiede a Max di togliere di mezzo i problematici Master Blaster che ostacolano la sua autorità a Barter Town. Max si infiltra in Underworld, lo chiamano davvero così, per raccogliere informazioni sui due obiettivi. Lì conosce uno schiavo che è stato messo a spalare sterco per tutta la vita, colpevole di aver ucciso un maiale, che infatti sono pregiatissimi, allo scopo di sfamare la sua famiglia. Underworld è un posto sgradevole, una scenografia industriale di grande effetto, ma come molte cose di oltre la sfera del tuono, è rappresentato con una certa non curanza, senza grande patto sdrammatico. L'anonimo prigioniero che ci seguirà fino alla fine del film è perennemente esaltato, non è una spalla comica, ma è quel classico personaggio allegro senza alcun motivo. Del tutto ignaro delle sofferenze che sta patendo, non nominerà mai più la sua famiglia e nella scena che lo introduce ammette candidamente di non essere preoccupato per la condanna a vita, dato che in quel luogo la gente tende a resistere al massimo due o tre anni. Oh contento te! E' l'orrore e quel tizio te lo dice con una perenne espressione da elmo stampata in faccia mostrandoti la fabbrica come se fosse Disneyland, non è anni 80, è fuori luogo, ma sì in virtù di questo è anche prepotentemente anni 80. Conosciamo il nuovo meccanico della serie, a dir la verità è una semplice comparsa questa volta. Blackfinger, confusionario e immerso nel proprio mondo di valvole e pistoni come tutti i riparatori della saga. Ha qualche difficoltà a disinnescare l'antifurto esplosivo del veicolo di Max, il vecchio trucco da pilota del deserto, e l'occasione che Max aspettava per farsi avanti. Scopriamo che Master umilia regolarmente Entity bloccando l'erogazione di energia elettrica a livello superiore, costringendola a ricordare di continuo alla popolazione chi comanda davvero a Barter Town. Mentre finge di eliminare l'esplosivo a bordo del veicolo, Max scopre che le note acute mandano in Tilt Blaster. Decide di aver ottenuto abbastanza informazioni e torna a fare rapporto a Tina Turner, accettando il lavoro. Provocherà Master Blaster costringendola a duellare in base alle leggi del villaggio. Ha scoperto il punto debole dell'omone, basterà andare di fischietto. A Barter Town esiste un'arena apposta in cui due contendenti possono sfidarsi fino alla morte, la cosiddetta Thunderdome. L'idea di Hunt unisce l'utile al dilettevole. Attraverso la cupola la comunità può aggregarsi nella visione di un distensivo spettacolo serale di sangue e grida, mentre qualsiasi conflitto viene risolto senza l'ausilio di un tribunale. Due combattono, uno vive. Stop. Fermo immagine. Non abbiamo ancora parlato in dettaglio dell'outfit di Max in questo film, ma l'inquadratura che state vedendo ora rivela una piccolezza assai sfiziosa per il personaggio. Lo notate? Aumento di poco la luminosità. Ora? L'occhio. La pupilla sinistra di Max è perennemente dilatata come David Bowie. È una conseguenza del ferimento al volto nello scontro finale del film precedente. Se ne sono ricordati e hanno voluto tenerlo presente. La battaglia viene annunciata da un sacerdote imbonitore già addetto alle compravendite all'ingresso di Barter Town, accompagnato da una serie di veline sorridenti. Posso capire la presenza di due donne in abiti succinti come parte della messa in scena per il pubblico, ma non che sorridano come novelle Miss Mondo brandendo le armi e con i capelli acconciati alla perfezione. Il discorso di apertura però contiene un indizio interessante. Le contese provocano la morte. E la morte provoca guerra. E una guerra ci ha portato così vicini alla morte. Ma guardiamoci ora. Relitti umani e parliamo solo della pioggia radioattiva. Pioggia radioattiva? In nessuno degli altri film di Mad Max si era parlato del nucleare. Il gigante dei due blaster affronta quindi Max nella sfera, o per meglio dire cupola del tuono. Come descrivere questo scontro? Sicuramente originale, niente di simile a quanto visto fino a quell'anno nei film di genere. I lottatori vengono agganciati a cavi elastici grazie ai quali possono saltare e raggiungere la superficie interna della cupola, zeppa di spettatori che restano aggrappati a essa per godersi lo spettacolo. Sono loro ad agganciare ad alcuni punti particolari armi di diverso tipo, tra cui martelloni e motoseghe che gli sfidanti devono ottenere per accelerare l'esito del duello. Per quanto l'idea possa sembrare contorta, il film è diretto indiscutibilmente bene nelle scene d'azione e la cupola regge l'aspettativa. Max e Blaster volano l'uno contro l'altro, tentano di raggiungersi e distanziarsi a seconda del momento. Gli elastici salvano la vita e allo stesso tempo rischiano di condurre il a una morte orribile del tutto imprevista, ad esempio rimbalzando su uno spuntone. So che la scena piace davvero molto al leggendario critico cinematografico Roger Ebert, ma io ancora non riesco ad accettarla appieno. Forse sono figlio del cinema d'inizio nuovo millennio, per quanto la mia infanzia sia stata farcita dai film anni 80, e che già solo l'idea di attaccare la gente a delle corde elastiche per uno scontro mortale mi fa sorridere. Certo, la Thunderdome degna di un match arcade da giocatori al bar della spiaggia con tanto di fatality sanguinolenta chiusura di partita. Ha numerose possibilità, ma è davvero necessaria? So che sparo sulla croce rossa parlando di realismo in questo film, ma provengo pur sempre dai due Mad Max precedenti. Quanto è credibile un match così cervellotico in una società post-apocalittica? Capisco e approvo il bisogno di intrattenimento, ma non è già abbastanza divertente vedere due persone che si pestano a morte e basta. Anche i romani, dopo parecchi secoli, hanno avuto il bisogno di spettacoli di sangue un pochino più elaborati, lo so, però su via non avrebbero mai usato delle corde elastiche come bretelloni, erano pur sempre i romani. È uno dei momenti in cui il film oggettivamente puzza di plastica, scusate l'idiotismo, è puro divertimento senza base logica che abbatte senza ritegno la serietà che aveva contraddistinto il vecchio Mad Max. Blaster viene sconfitto grazie al richiamo acutissimo che l'ex poliziotto riesce a raccogliere da terra all'ultimo, quando arriva il momento di finirlo però, Max scopre che Blaster è affetto dalla sindrome di Down e decide di risparmiarlo. A Master basta togliersi l'elmo e gli occhiali per dimostrare tutta la propria e imprevedibile umanità, grazie all'ottimo lavoro di Rossitto, e l'anziano prega Max di risparmiare Blaster dato che è un innocente, è come un bambino. Jesse, se incontri un grassone non preoccuparti, è come un bambino. Il film non ce lo dice ma ritengo sia lecito tornare indietro con la mente al gigante buono di Interceptor, Benno. Il gesto caritatevole non è ben visto da Haunty, il complotto ai danni di Master viene svelato e la faccenda viene chiusa con spietatezza. Max deve essere punito, si trova sottoposto a un altro rito peculiare di Barter Town, il villaggio post-apocalittico più divertente di tutta la saga, la ruota della sfortuna. Ok, la ruota della sfortuna faccio più fatica a digerirla. Accetto che la legge del dopo sia aleatoria, ma non approvo che anche essa debba essere strumentalizzata all'udibrio popolare attraverso un'estrazione casuale indipendente dalla gravità della colpa. Ricordo una stupidità del genere soltanto nel film col maggiore numero di battute sulla merda esistenti, The Human Centipede escluso, Natale in India. Gulag, amputazione, morte, scelta libera di Tina Turner, lavori forzati, assoluzione, perché sì, la legge non esiste più, quindi approfittiamone per dare ai colpevoli ulteriori possibilità, addirittura l'opzione gira ancora. Il fatto condanna Max all'esilio da Barter Town in stile selvaggio West. Non ritentare Max, sei stato già abbastanza fortunato. Ci sarebbero tutte le occasioni buone per non arricchire ulteriormente la scena con del kitsch fuori luogo, ma chi di dovere ha deciso di infilare sul già evidente parruccone di Mel Gibson una enorme testa da Mascotte di Luna Park. Non si capisce come né perché. Ho capito che è stata posta sulla testa di Max per impedirgli di capire quale strada avesse preso il cavallo, ma davvero era necessaria la testa di Luna Park? Cos'è, ne hanno uno stock intero o era la prima volta che esiliavano qualcuno? Di solito basta mettergli una benda in faccia. Possiamo finalmente dare un'occhiata all'outfit di Max aggiornato al terzo film. La divisa da Poliziotto c'è ed è ancora la stessa, è riconoscibile. La manica destra è posticcia, sorprende la mancanza del sostegno alla gamba sinistra che invece tornerà in versione meno evidente rispetto al catafalco scricchiolante di Mad Max 2 in Fury Road. Dell'occhio abbiamo già parlato e la ciocca bianca all'altezza della tempia sinistra si è estesa. La totale assenza della V8 Interceptor è il restante nesso logico che collega l'arco di questi primi tre film. Nel frattempo a Barter Town Master viene torturato e obbligato a mandare avanti la raffineria della città per conto di Entity. Ed ecco un'altra scena che io non posso proprio sopportare, infatti viene presto dimenticata da tutto il film. Lo schiavo pazzoide trova la scimmietta di Max, la rifornisce di una borraccia d'acqua e la spedisce oltre ai condotti di areazione dell'Underworld. La scimmietta raggiunge l'esanime Max dopo la morte del cavallo e consegna l'acqua che gli permette di avanzare ancora per qualche chilometro prima di accasciarsi fra le dune del deserto dove verrà trovato. Ho solo qualche domanda pignola, chiedo Venia se non so godermi appieno la vita. 1. Come fa il tizio a sapere che la scimmietta appartiene a Max? Non li ha mai visti insieme. 2. Come fa la scimmia a trovare Max in tutto il deserto? 3. Come ha fatto lo schiavo a farsi venire un'idea del genere e capire che la scimmietta consegnandole la borraccia l'avrebbe portata sicuramente a Max? 4. Che senso ha tutta la scena se Max sviene lo stesso qualche metro più avanti? La scimmietta aveva davvero bisogno di screen time per una scena che non sta neanche in piedi? Perché non potevano far cadere direttamente a Terra Max e passare alla scena dopo? Già io odio le scene con gli animali che fanno i miracoli, lo devo ripetere un'altra volta, la storia di Balto è completamente falsa. Quel cane ha percorso soltanto le 50 miglia finali su 600, coadiuvato sempre da altre mute di cani ovviamente e dai piloti umani sempre dietro la slitta, altrimenti l'antitossina non l'avrebbe portata da nessuna parte! Mi calmo, mi calmo, mi calmo, ok? Mi calmo, sono calmo, ma odio quando si verificano queste scene senza avere neanche un senso logico all'interno della trama, sono solo imbarazzanti, a meno che qualcuno non me la voglia spiegare. Io sono qui, orsu, avanti. Raggiungiamo la seconda metà del film, Max viene ritrovato esangue fra le dune bianche e portato all'interno di un'oasi nascosta dove vivono una tribù di ragazzini. Lo stile cambia completamente. Ah, ecco dove è finito il sostegno. Max viene scambiato per il capitano Walker, una figura mitica per i bambini, che tentano di comunicare con lui voltando con la mano un vecchio disco in vinile attaccato all'estremità di un palo. È una trovata piuttosto adorabile. Al risveglio la comunità di bambini racconta il mito di Walker attraverso i due elementi più anziani, coloro che trasmisero al mito ai più piccolini. Hanno un buffo strumento che usano per accentrare l'attenzione su di loro. Credo che proseguirò il mio esperimento di neolingua post-apocalittica e lo chiamerò televisiona. Vedo la fine, che fu il nostro inizio. Fu un'eclisse piena di sofferenze. Va bene, direi che qui abbiamo una conferma, si parla davvero di apocalisse per guerra nucleare, ma resta il fatto che i primi due Mad Max non ne avevano mai parlato. Pazienza Interceptor che è pre-apocalittico, ma Mad Max 2 ha un preambolo che serve apposta a spiegare il crollo della civiltà moderna. Il linguaggio aulico usato dal narratore permette di infilarci dentro qualsiasi cosa a patto di essere flessibili. Si parla di un conflitto che annientò due superpotenze e se attribuiamo tali ruoli a Stati Uniti e Unione Sovietica è chiaro che non possiamo fare altro che pensare al finale del Dottor Stranomore. Da lì il quadro potrebbe apparire completo proprio in virtù di Thunderdome. Guerra atomica, fine del petrolio o delle estrazioni, inverno nucleare, crollo della civiltà, deserto. Sappiamo però che Miller e i suoi colleghi scrissero il primo Interceptor ispirandosi semplicemente a un'ipotetica crisi petrolifera, senza scomodare la terza guerra mondiale. Diciamo che è un background che è mutato, si è aggiustato, magari per certi versi si è conformato. È faticoso tenere in piedi un'apocalisse senza guerra nucleare e Thunderdome ci ha messo una bella pietra sopra. Sì, è un mondo post-nucleare come tanti altri. La leggenda di Walker afferma che un giorno il pilota della grande nave volante, la quale altro non è che un Boeing fatto atterrare miracolosamente in pieno deserto, sarebbe tornato e avrebbe condotto tutti i bambini, figli dei sopravvissuti che avevano trovato a breve distanza dal luogo, quell'oasi, alla terra del domani-domani. Perché non potevano lasciare un adulto? Due su venti che dovevano partire? Max viene investito della carica e tenta di rifiutare, ma la speranza dei ragazzini è dura a morire. Viene condotto ai miseri resti del velivolo alla prima folata di vento, pensando che Walker sia in grado di farlo alzare di nuovo per magia. Il rifiuto di Max spacca in due la tribù. Max è ben felice di restare nell'oasi della tribù e cerca di convincere la giovane Savanna a non andare a cercare la terra del domani-domani altrove. Non esiste più un luogo di prosperità al mondo. Max cattura Savanna, ma nottetempo il ragazzo dal volto dipinto la libera permettendole di incamminarsi in pieno deserto. L'ex poliziotto è costretto a inseguirla. La secessione di Savanna finisce in tragedia, con la morte di uno dei bambini più piccoli inghiottito dalle sabbie. Una scena bella e piuttosto inaspettata che riporta Thunderdome alla dura realtà. Sebbene la sezione riguardante la tribù dell'oasi non si è estesa nel film in quanto a minutaggio, spezza comunque il ritmo della storia e come dire... la nacqua. Temo arrivi addirittura al punto in cui ci si può sentire Orfani di Tina Turner. Forse il tema dei ragazzini selvaggi è banale e quindi prevedibile, privo di sorprese, o forse lo stereotipo del falso profeta e la caratterizzazione degli stessi è così lineare, pilotata, senza guizzi, da minacciare la pellicola di eccessiva piattezza. Per fortuna la fuga di Savanna si conclude in fretta e offre il gancio per portare tutta la tribù a Barter Town per piantare un bel casino. Ci si infiltra a Barter Town tramite l'Underworld per reclutare il piccolo uomo master. Oh no, ecco di nuovo lo schiavo idiota. Sapete chi mi ricorda? Wallace di Wallace e Gromit. E io adoro Wallace di Wallace e Gromit ma non voglio vederlo in un film post apocalittico. Mi era già bastato l'episodio sui pantaloni meccanici. Ecco il pinguino. Segue una scena d'azione rocambolesca in cui il guerriero al servizio di Entity si fa un bel volo nell'etame e il deficiente ha l'occasione di buttare lì un'altra delle sue frasi senza senso. Ricorda, indipendentemente da dove vai, sei lì. Ci sono bambini che scivolano gridando, gente che si diverte, una classica scena sono nella merda e saluto ridendo, insomma l'intero pacchetto base dei Goonies. L'arrivo a Barter Town è solo simpatia da film per famiglie e viene risolto con una semplicità tale da non rendere giustizia alla gravità della situazione. La fornace di Barter Town viene ribaltata con un paio di capriole e ridendo e scherzando il film è già arrivato a un'ora e venti. Per fortuna Auntie Entity torna in scena con questa bellissima espressione, ma è troppo tardi. Max e i bambini si incamminano su di un treno minerario sotterraneo che fuoriesce dall'Underworld. Il mezzo era ormai un tutt'uno con il dedalo di tubi che conducevano il gas metano in superficie, perciò tutta la città inizia a esplodere. L'unica speranza per ricostruire Barter Town è riprendersi Master e costringerlo a riparare la centrale. Tutti i veicoli di Entity si gettano all'inseguimento. Ed era ora! Allora, qual è il piano? Piano? E chi ha un piano? Vallo a dire a Charlize Theron? A bordo della motrice, Master si è cambiato d'abito diventando una sorta di ferroviere western. Non è la prima volta che nei film di Mad Max si spiega qualcosa su di un personaggio unicamente attraverso il manierismo o un dettaglio visivo. Questo indizio ci permette di capire che Master un tempo era un gentiluomo, magari un addetto del vecchio cantiere minerario, i suoi abiti sono cuciti su misura. Questo potrebbe renderlo il legittimo primo cittadino di Barter Town, un antecedente di certo all'arrivo dell'ex predona Entity. Ecco come mai non ne accettava l'autorità e cercava di sopraffarne la leadership. È stata lei a invadere il suo spazio. I bambini hanno l'occasione di far funzionare il divino vinile, scoprendo che non è nient'altro che un corso di francese. Il treno non può accelerare ed è presto in balia della scuderia di Barter Town, tra cui questa macchina mucca! Cos'è, un abbonato del PlayStation Plus? Anche l'inseguimento finale non è esente da trovate scherzose come il povero braccio destro di Tina Turner annerito e abbarbicato alla parte anteriore della motrice. Si verificano padellate in faccia e reazioni buffe, non ci si smentisce. La regia di Miller si fa però a mirare con le cineprese basse e tremolanti, le inquadrature dai veicoli e il montaggio veloce. I binari conducono il gruppo nei pressi dell'abitazione di Gededia e del figlio, che senza chiedere alcuna approvazione va subito a preparare il velivolo. Troppi bambini! L'aereo giunge fino al limite di uno strapiombo e Gededia lo rivolge verso la colonna di automobili comandate da Entity. La pista rimasta è troppo breve per il decollo, ma Max incita il pilota a tentare mentre lui caricherà i nemici con l'auto rubata dal ragazzino dalla faccia dipinta. Ma la smetteranno mai di sorridere a Vanvera in questo film? La tribù con Gededia, il figlio, lo schiavo dell'Underworld e l'egregio signor Master scambiano l'ultimo sguardo con Max, che ha scelto di sacrificarsi per loro. Un comportamento più nobile di Mad Max 2, nonostante anche in quel frangente l'uomo avesse fatto di tutto per salvare la comunità del villaggio raffineria. Là però c'erano degli interessi in ballo, era tutto parte di un accordo per difendersi da una banda che avrebbe ucciso entrambi, ed era stato spinto dalla vendetta per la distruzione dell'auto e per la morte di Dog. Cosa avrebbe impedito a Max di rimanere a bordo del velivolo e tentare la fortuna? Non penso l'abbia alleggerito così tanto scendendo, vuole soltanto offrirsi come diversivo disperdendo con un frontale la fila all'inseguimento. È altruismo autentico, è il sacrificio finale dell'eroe. Piccola parentesi, padre e figlio aviatori sono in effetti carucci insieme. Non so se considerarla una scena molto badass o l'ennesima puttanata puzzolente da film anni 80. Il velivolo scompare. Max non saprà mai se i bambini troveranno una terra del domani domani. L'eroe è alla merced di Auntie Entity. Basterebbe un suo accenno per terminare la sua vita una volta per tutte. Quel traditore ha rotto il patto per eliminare Master ed è tornato per radere al suolo l'intera città, lasciando partire il piccolo uomo via, lontano da lei per sempre. Per quale motivo non dovrebbe ucciderlo? E questa è la cosa affascinante, perché Auntie non lo fa. Lo osserva, gli sorride e gli dice siamo una bella coppia, povero pezzente. Qui Tina Turner è bellissima, scusate se mostro una debolezza nei suoi confronti. In inglese la battuta è migliore ancora ed è pronunciata in modo perfetto. Auntie risparmia Max perché non è davvero una persona spietata. Ha perso ciò che le serviva, l'abilità tecnologica di Master, e ha considerato il credito dell'ex poliziotto per essere stato turlupinato da Entity, estinto. Sono pari. Sono entrambi senza potere, entrambi delusi, entrambi sconfitti. Ma Auntie ha una città da ricostruire ed è determinata a farlo. Max non ha proprio più niente. Quindi lei è in una condizione di superiorità. Ucciderlo a sangue freddo sarebbe abbassarsi al di sotto della medesima legge da lei riproposta. Perciò preferisce abbandonarlo lì, a chilometri di distanza, sicura che le loro strade non si incroceranno mai più. Nessun antagonista della serie si sarebbe comportato così, solo lei. È un barlume di civiltà o Max è solo stato fortunato? C'è spazio per un po' di rinnovata fede. Il film si conclude con un flash forward evocativo in cui scopriamo che la comunità di bambini abbandonati dal gruppo di Walker ha traguardato il deserto e ha raggiunto la costa, con i resti di una Sydney indistrutta ma bellissima, uscita quasi da un sogno, tinta dal tramonto e dalle tempeste di sabbia provenienti dall'outback. Savannah racconta il nuovo mito, non più di Walker ma di Max, per il quale accendono luci in tutta la città nella speranza che un giorno egli veda il segnale e si ricongiunga a loro, andando incontro al futuro. L'ultima inquadratura è per lui, incontro luce, mentre avanza a piedi verso una destinazione ignota come al solito. Li sta cercando? O sta procedendo ancora più in profondità nell'Apocalisse? Non lo sappiamo. Ciò che è certo, tuttavia, è che il mito di Max ormai è nato e verrà tramandato. Ora Max è leggenda e per trent'anni questa fu la conclusione della sua storia. Come per Mad Max 2, il racconto viene chiuso da una narrazione esterna che esalta la figura di questo eroe solitario del deserto. Non sapremo mai se il povero Max avrà davvero una redenzione in base a quanto detto in Thunderdome, ma al finale è molto più felice del precedente. È malinconico e celebrativo nei confronti della figura di Max, ma evita di essere un happy ending, lasciando prevalere un'aura più mistica e rarefatta. Lo trovo molto significativo. Ma questo non toglie che oltre la sfera del tuono, almeno in mia opinione, sia un film sottotono e meno coraggioso dei precedenti Mad Max. I primi due e il futuro Fury Road poggiano la trama sulle corse in automobile, la fuga o il duello contro una prominente figura minacciosa. Thunderdome rifiuta questa identità e ne costruisce una anomala, differente da ogni altro lavoro di Miller. I veicoli entrano in scena soltanto nell'ultimo quarto d'ora e non lo fanno in modo spettacolare, bensì come dovuto climax finale. Max non ha mai parlato così tanto, è senza dubbio il film più dialogato e con passato dei quattro e non sarebbe stata di per sé una cattiva idea se sceneggiature e regia non avessero cercato l'uniformità con la corrente cinematografica di quel decennio. Battutacce surreali, buonismo ricorrente, semplificazioni e il filtraggio ricercato di ogni elemento scabroso a favore dello svago autoironico. Thunderdome avrebbe concetti intellettuali superiori al guerriero della strada da mettere in campo, ma lascia che vengano assorbiti da questa atmosfera che evita fin quasi alla fine di prendersi sul serio, ed è un peccato. È l'atto che inaugura l'anno zero della nuova civiltà post-apocalittica e mitizza la figura di Max Rocatansky ed è stato per metà ridotto a un hook capitanuncino post-apocalittico anacquato, dalle basse pretese autoriali. È un film troppo conciliante e non credo che Mad Max debba esserlo. Alla sua uscita non andò bene al box office quanto Mad Max 2 il guerriero della strada, le principali critiche si concentrarono sui bambini della tribù, mentre furono molto clementi e apprezzarono la parte ambientata a Barter Town, lo scontro con Master Blaster e l'introduzione dei nuovi personaggi. Perse giustamente l'aggettivo rivoluzionario che Mad Max 2 si era conquistato con umiltà. Thunderdome non era altro che un flicco hollywoodiano e ormai ne erano stati realizzati molti come lui. Oggi la critica salva al terzo Mad Max. Per una volta è il pubblico essersi coalizzato a sfavore di Thunderdome, tacciato di non poter sopravvivere al confronto diretto con la rozzezza, la frenesia, la scelleratezza dei compagni. Eppure c'è chi lo ritiene il migliore, come ho detto. Perché? Perché è un Mad Max che si regge sulla trama e non sulle scene d'azione, un film in cui il personaggio non ha una involuzione, ma ha una evoluzione positiva e che chiude il cerchio coerentemente. Per quanto mi riguarda sono validi motivi per salvare dalla mediocrità Thunderdome, ma non di più. I gusti personali contano, i miei non riescono a perdonare in toto questa pellicola. Si poteva fare di più, l'idea dei ragazzini poteva essere messa su schermo con più originalità, la verve è sbagliata, la buona occasione è stata parzialmente sprecata. Amici del tubo, ho terminato il mio esame di Mad Max Beyond Thunderdome, oltre la sfera del tuono, terzo capitolo della al momento tetralogia di Mad Max. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, è stato come al solito troppo lungo, ma ormai sono fatto così, spero che vi abbia divertito. Non è fondamentale che voi abbiate la mia stessa opinione riguardo questo film, ognuno ha le sue, spero soltanto di avervi intrattenuto e che questa sia stata un'ennesima esperienza piacevole. Io vi ringrazio per il vostro supporto, prima o poi arriverà anche l'atto conclusivo di questa piccola miniserie che si è trascinata e me per troppo tempo, dove parlerò di Fury Road e penso che urlerò e basta per tutto il video.